RTMN, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Questa è la mia panchina. Vengo qui alla stessa ora ogni giorno e poi... ...e i brontoli. Esatto. Mi sembra proprio che ti serva un amico. Mi piaci. Anche tu mi piaci, Freddy. Chi è Gabriele Tacchi? Ah, tanto Gabriele Tacchi è una persona che di solito ringrazia, quindi grazie di questa intervista, insomma, grazie di essere qui con te. Gabriele Tacchi è tante cose. Nel campo lavorativo è sicuramente un artista, diciamo, incessante. Nel senso che io da quando ho 16 anni ho iniziato a fare l'artista di strada, facendo appunto anche manifestazioni medievali, facendo il mangiafuoco, facendo il trampoliere. Ho cominciato così, diciamo, la mia carriera, perché volevo fare tante cose, le voglio tuttora fare tante cose. Quindi, diciamo, il mio essere artista è il voler sperimentare e provare quante più cose possibili, insomma. Voler espandere in qualche modo la mia arte in vari settori dell'arte, in varie specializzazioni. Quindi sono passato veramente dall'arte di strada, poi sono passato alla commedia dell'arte. E ho continuato a farlo, continuo a farlo tuttora. al teatro, al cinema, alla regia, al doppiaggio, insomma. Quindi ho sempre avuto una grande curiosità. Quindi sicuramente la curiosità è un tratto che, diciamo, può rispondere in qualche modo a questa domanda. Dal punto di vista professionale, dal punto di vista umano, Gabriele Tacchi, non lo so, mi considero un buon amico, una persona che aiuta gli altri e che, diciamo, di solito parteggia sempre per il gruppo, cioè nel senso lavoro sempre molto per la comunità più che per il singolo, cioè più che per l'egoismo o l'ego. Ecco, penso sempre, diciamo, al gruppo. Non so, penso questa sia, possa essere una buona risposta. Difficile, però, eh? Tra tante cose abbiamo detto doppiatore, regista, al mondo del doppiaggio. Da quando hai iniziato? Ad oggi? Prima tanto, come ti è venuto in mente poi di fare il doppiaggio? Ah, è una cosa, è una cosa che è nata, penso, quando ero piccolo. Un po', un po' all'inizio non capivo la differenza tra, cioè, mi si è balenata a un certo punto il fatto che le voci che io sentivo non erano veramente le voci italiane, ma che quelli erano attori stranieri. Però questo all'inizio, quando uno è piccolo, non, come dire, non ci fa caso, ovviamente. E in qualche modo ho iniziato a pensarci, perché un mio carissimo amico, che è anche un mio collega, che è Dodo Versino, che è un grandissimo doppiatore, un grandissimo musicista, un grandissimo maestro di musica, noi siamo cresciuti insieme fondamentalmente, eravamo piccolini, e sua mamma lavorava nel mondo del doppiaggio. E quindi io ho iniziato a conoscere l'idea del doppiaggio, cosa fosse. Non che questo abbia cambiato nulla. Poi io ho iniziato, diciamo, ad affacciarmi nel mondo del doppiaggio a 27-28 anni. Quindi poi in realtà non è mai successo veramente nulla in quel periodo, diciamo, sin da quando ero piccolo, oppure in adolescenza, o gli anni dell'università. È successo molto dopo, in realtà. Ho sempre avuto questo pallino. era comunque una specializzazione che mi entusiasmava. Il poter fare tantissimi ruoli, il poter lavorare con la voce. Io ho sempre avuto la passione, diciamo, del canto, ho sempre avuto la passione dell'utilizzo della voce. E ho studiato tanto l'utilizzo della voce, quindi, e lo studio tuttora. Quindi, chissà, forse questo, diciamo, ha unito un po' di cose. Però ecco, chissà, sì, forse da bambino. Però poi non ci ho più pensato per tanti anni. Quando sei entrato la prima volta in sala, a sentire qualche doppiatore, che sensazione hai avuto? Perché adesso è impossibile entrare in una sala e capire quei segreti. Adesso è impossibile. Purtroppo, anche per il Covid, insomma, era diventato molto difficile già prima del Covid, per via di tutte le situazioni di restrizioni, di sicurezza, di privacy, di questioni legate, appunto, ai prodotti, che ovviamente molti clienti, diciamo, tendono a non voler far vedere. in qualche modo. Quindi è anche comprensibile in questo periodo dove i social network e le informazioni viaggiano così tanto velocemente che uno spoiler potrebbe fare la vita o la morte di una serie o di una puntata, di un film. Quindi, diciamo, adesso è difficile. Io sono entrato in un periodo, diciamo, a cavallo tra la possibilità di assistere e l'impossibilità di farlo. cioè era un po' a cavallo perché già io, per esempio, quando ho iniziato ad assistere io i film di cinema era molto difficile assistervi e quindi fondamentalmente ho assistito alle serie, alle serie tv. E quando sono entrato è stato un po', comunque una cosa un po' magica, nel senso perché tu vedevi questi grandissimi attrici e attori che era tutto facile per loro. Era una situazione semplice e dove la recitazione era la prima tematica che loro portavano al leggio, cioè il recitare le emozioni, il trasmettere un sentimento. Era la prima cosa, mentre poi piano piano quando ho iniziato a sperimentare anch'io ho detto ma come si fa a portare l'emozione? Cioè prima una quantità di bagaglio tecnico da dover assorbire che l'emozione poi uno se la scorda. Invece è molto bello quando la tecnica, diciamo, va in secondo piano, nel senso che va in background e tu puoi pensare solamente alla recitazione. Questa è una cosa molto bella di questo lavoro che mi piace molto. Sei passato da tanti film, hai visto Ippie Man, Your Name, ma hai fatto anche i Sette Vizi Capitali, hai fatto... Cioè la lista sembra lunga. Quale personaggio ti ha dato più emozione nel farlo e quale personaggio ti ha dato più difficoltà nell'interpretare? Cioè dar voce. Allora, c'è stato sicuramente uno dei grossi film che ho fatto che è stato appunto Bohemian Rhapsody è stato un film molto delicato. Quello è stato un film appunto... Il mio ruolo era un ruolo in qualche modo quello che facevo io che interpretavo io che era il fidanzato quello che poi sarebbe diventato il fidanzato di Freddie Mercury era in qualche modo un ruolo staccato dal resto del film nel senso che era proprio una bolla emotiva che era, diciamo, della vita di Freddie Mercury. Quindi quella è stata sicuramente una prova una cosa che mi porto molto dietro perché comunque c'era un certo tipo di sensibilità un certo tipo di intimismo non bisognava diventare stereotipati nell'amore tra due uomini perché non c'è stereotipo in qualche modo c'è stereotipo solo nelle questioni diciamo un po' più da bar ecco e quindi in qualche modo quello sicuramente è stato un diciamo un'esperienza attorialmente parlando molto bella che mi piace molto un'altra diciamo un'altra esperienza molto bella non è proprio cinema però nel senso è stato trattato come il cinema cioè Chernobyl che è stata una serie una serie televisiva secondo me meravigliosa infatti sono contento che ha vinto molti premi cioè una serie tosta difficile per compiere il tema per come è stato trattato per come è stato spiegato è stata molto bella la serie io avevo uno di questi personaggi che sono rimasti all'interno della centrale nucleare e che in qualche modo si è opposto finché poteva al diciamo al al capo ingegnere quello è stato difficile per la tensione ad esempio per la tensione che all'interno di tutta la recitazione si doveva avere cioè all'interno di tutte le scene c'era questa tensione di sottofondo veramente mortale e quello secondo me è stato il direttore che è stato bravissimo il direttore Fabrizio Temperini è stato è stato molto esigente con quella con quel tipo di diciamo di richiesta a ben vedere perché poi insomma anche a ben sentire perché poi insomma il risultato è stato bellissimo il direttore di Bohemian Rhapsody è Marco Guadagno insomma e anche lui è stato è stato molto bravo devo dire che mi sono capitate sempre situazioni con con direttori molto preparati e molto in gamba oppure non lo so un'altra beh molto difficile sicuramente è stato Mad Max un po' perché è stato il mio primo film un po' perché la recitazione era aveva una difficoltà tecnica molto grande che era quella diciamo di una voce molto cavernosa una voce molto quasi non da cartone però quasi da personaggio da fumetti in qualche modo quindi una voce molto roca molto profonda molto cavernosa quindi quella tecnicamente è stato molto molto difficile anche lì Massimiliano Alto che è un grandissimo diciamo strumentista di voci è riuscito a trovare insomma un buon modo diciamo di rendere credibili quel tipo di voci lì poi cos'altro sicuramente ci stanno altre altre cose che adesso mi sfuggono è stato molto divertente fare Brontolo però lì appunto non c'è stata una difficoltà non c'è stata una difficoltà tecnica c'è stata veramente l'idea di prendere perché io comunque sono un po' Brontolone anch'io molto spesso quindi chissà magari sono stato scelto anche per quello lì è stato quasi più semplice del previsto per quanto poi doppiare un cartone animato è sempre molto difficile e poi comunque ci sono Your Name cioè il rapporto con le anime comunque vedo che ci sta un buon rapporto il rapporto proprio con il Giappone con questa animazione come ti ci trovi? allora io ho sempre amato gli anime e diciamo fino a che avevo tempo di vedere film in realtà perché adesso con un bimbo piccolo uno in arrivo ho molto meno tempo insomma quindi in una fase della mia vita in cui diciamo sono diventato grande io però ho sempre avuto un buon rapporto con gli anime sin da quando sono diciamo adolescente e ho seguito tutti gli anime diciamo un po' cult quindi da Akira a tutta la serie di Evangelion oppure ai film di Miyazaki che poi sono diventati famosi diciamo al grande pubblico in seguito appunto alla vincita dell'Oscar con Spirited Away però appunto ho sempre ho sempre seguito diciamo gli anime anche quelli un po' della mia infanzia da Orange Road a non lo so a appunto alla Piccola Flo che era uno dei primi lavori di Miyazaki diciamo sulla serialità quella che da noi è stata chiamata appunto la Piccola Flo o anche a Nadia insomma quindi io il rapporto con gli anime è sempre stato molto buono anche in quelli un po' sperimentali anche in quelli un po' non da grande pubblico ecco mettiamo così quindi mi dispiace che adesso col tempo diciamo ho un po' perso ho un po' perso diciamo le fila del discorso mettiamola così adesso non so più tanto che cosa diciamo cosa va di moda o comunque cosa cosa propone diciamo il mondo degli anime che so che è un cioè appunto io l'ho conosciuto un po' dalla fine degli anni 80 insomma l'ho conosciuto è un mondo meraviglioso insomma riescono a fare dei film estremamente complessi estremamente poi Ghost in the Shell ad esempio è una cosa è un film che io ho amato tantissimo quindi insomma da cui sono nate poi tantissime altre correnti quindi il mio rapporto con gli anime è assolutamente molto positivo non ne faccio tantissimi qualcuno ogni tanto ne faccio ho fatto ho fatto Gundam ho fatto un po' di cartoni animati però erano più cartoni animati seriali hai presente quelli dove appunto usi le carte per giochi le carte per far diciamo per fare diciamo l'arena di quelli ne ho fatti un po' ho fatto Vanguard quindi sicuramente come dire il mio rapporto è molto buono non ne faccio moltissimi ne vorrei fare di più essere sincero quando hai citato Orange Road parliamo di perché che non sa il primo titolo che in Italia è stato poi tra tutto con quasi maggio Johnny c'era non lo stesso per io usci prendi il mondo e vai dolce chioco cioè parliamo di prende una vita fa probabilmente sì 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 una vita fa compresi tutti compresi tutta la serie dei robottoni nel senso anche tutta la serie appunto che io chiamo quella la serie dei robottoni insomma quelli erano diciamo è veramente il capostipide di tanta cinematografia attuale insomma quindi anche quella mi è sempre piaciuta mi è sempre appassionata da quando è iniziato ad oggi tecnicamente come è cambiato perché ultimamente si parla sempre della forma d'onda nei videogiochi ma in realtà molto spesso si utilizza nel rientrare nel range dell'audio originale perché alcune produzioni come Netflix ultimamente un po' meno però all'inizio tendeva a contenere conto del se c'era sorriso e non lo faceva voi non lo dovete fare punto sì queste diciamo allora io ovviamente posso parlare per me nel senso io so che adesso per esempio la nostra associazione di categoria che è l'ANAD sta tentando diciamo una comunicazione verso tutti i clienti per far arrivare diciamo il concetto che noi dobbiamo trasformare nella nostra lingua una come dire una 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 cultura che è diversa dalla nostra quindi anche anche la lingua per esempio l'inglese è molto più breve rispetto a noi hanno proprio molte meno sillabe quindi è molto spesso appunto visto che finiscono le loro frasi in maniera tronca perché magari hanno hanno delle consonanti o magari appunto i giapponesi per esempio i giapponesi hanno un'emissione diversa cioè gli attori giapponesi hanno proprio un'emissione diversa per motivi legati alla loro tradizione attoriale con l'imperatore cioè quando loro dovevano recitare di fronte all'imperatore dovevano mostrare la loro energia fisica e quindi in qualche modo il loro retaggio di artisti di attori e di attrici è legato molto all'utilizzo della voce potente e possente per questo sono sempre molto estremi nel recitare e anche nell'uso della voce quindi però per noi è difficile cioè per noi sembra che noi urliamo se noi lo traduciamo esattamente come lo fanno loro e questo insomma dobbiamo trovare sempre un un equilibrio tra quello che è il tradurre nella nostra lingua è quello che è diciamo l'esigenza di coprire il visivo perché noi siamo abituati a coprire il visivo non la forma d'onda questa è un po' sicuramente una difficoltà tecnica che ci sta un po' per lo meno me e anche altri miei colleghi insomma con cui mi confronto ci sta un po' disturbando perché ovviamente noi lavoriamo molto sul visivo e quindi diciamo facciamo un pochino di difficoltà molto spesso soprattutto sui cartoni animati perché in realtà non c'è un vero motivo se non io penso una questione tecnica cioè nel senso che comunque poi questi i vari missaggi le varie sincronizzazioni poi vengono fatte anche a livello internazionale e quindi devono avere più o meno lo stesso range di percentuale di battuta tu prima citavi i videogiochi i videogiochi appunto c'è un limite di tolleranza oltre il quale non puoi andare perché ovviamente poi loro sul video appiccicano le varie voci perché sono proprio un po' appiccicate perché ovviamente non c'è un vero un vero doppiaggio perché ovviamente il videogioco ragiona su un altro tipo di architettura e quindi in realtà è molto interessante perché tu un personaggio lo puoi trovare in qualsiasi punto della tua esperienza di gioco puoi non trovarlo puoi interromperlo quindi in qualche modo il video viene viene interrotto anche dalla tua modalità di gioco quindi è normale questo meccanismo tecnologico diciamo che io mi sto mi so destreggiare mettiamola così riesco in qualche modo a trovare un equilibrio tra le due cose però devo dire che è ardua che è difficile come come sfida nella tua lista noi abbiamo la lista qui di fronte mancano i videogiochi mancano i videogiochi è vero non so perché non ci sono io ne ho fatti un po' non ho mai fatto diciamo voci principali quelle che possono essere chiamate voci protagoniste poi io non amo dire troppo protagonisti o coprotagonisti perché secondo me ogni personaggio e ogni voce è essenziale per la fruizione di un prodotto io ho fatto ho fatto Jurassic Park Jurassic World ho fatto Lego Star Wars ho fatto ho fatto una cosa di zombie in cui dovevi fuggire da un'isola non me lo ricordo adesso come si chiama insomma ne ho fatti vari non ne faccio tantissimi non sto molto perché poi soprattutto i videogiochi sono molto nel territorio milanese che io non 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 mi chiamano a farli però sì nel senso i videogiochi sono sono anche un bel diciamo un bel modo di usare la voce perché comunque devi fare sempre personaggi molto assurdi, molto estremi, quindi anche quello è molto interessante per il mio lavoro, diciamo, per il lavoro d'attore. Il rapporto tuo invece con i giochi, giocare proprio? Allora, adesso un po' come gli anni ho molto meno tempo, però mi piace molto. Io appunto sono cresciuto negli anni Ottanta, quindi nel periodo delle prime console, sono cresciuto all'inizio di internet, quindi dei primi giochi online. Quindi io appunto diciamo che sono un po' un nerd, perlomeno lo ero, nel senso ho giocato tantissimo ai primi videogiochi online come Ultima Online, come Diablo, a qualche Quake, oppure a Real Tournament. Insomma, i giochi di allora, della prima ondata di giochi multiplayer, me li sono un po' fatti, perché comunque era proprio un'innovazione, era una cosa anche bella, perché veramente chiacchieravi anche via chat con delle persone, quindi era proprio una novità in quel periodo, tramite vari programmi. Adesso è tutto più semplice, ovviamente, ma all'inizio era tutto un po' più macchinoso, quindi avevi programmi esterni, insomma era... Io però con i videogiochi appunto ho sempre avuto un buon rapporto. Non ho mai, come dire, non ho mai voluto demonizzare il videogioco, nel senso come tutte le cose, secondo me se vengono gestite bene possono essere un arricchimento. Per quanto riguarda, appunto, ovviamente ho giocato ai giochi tipo Super Mario, Tetris. Da poco mia moglie, diciamo, in un attimo di momento vintage revival, mi ha regalato il Game Boy, perché io avevo un Game Boy che poi purtroppo è andato perduto, e ho detto, peccato, vorrei tanto farci giocare mio figlio, cioè avrei tanto voluto farci giocare mio figlio a Tetris o a Super Mario, insomma, così proprio per mostrargli un po' l'inizio, gli albori dei videogiochi, e quindi mi ero dispiaciuto di questo Game Boy perso, e quindi lei da poco fa me l'ha regalato, così, in un gesto di retro gaming, diciamo. Vado sul presente adesso, c'è una questione, discussione, che ormai siamo diventati politicamente corretti, e a questo punto io mi ponevo la domanda, ma Scooby-Doo, che è un cane, Scooby-Doo, cartone, è un cane, deve essere interpretato da un doppiatore cane, o da un cane che sa parlare l'italiano? Probabilmente, chissà, da un cane che sa parlare l'italiano, secondo alcune logiche attuali. No, a parte gli scherzi, nel senso, la domanda è assolutamente interessante, perché adesso si sta parlando tanto, c'è stato un caso, appunto, di questa attrice, che si chiama Laverne Cox, che era un uomo e ha fatto la transizione per diventare donna, quindi adesso ufficialmente è una donna, lei si promuove come donna, è a tutti gli effetti illegalmente una donna, quindi è una donna. E quindi, diciamo, che fare delle gaff come quelle di proporre, diciamo, il doppiaggio di un uomo su quell'attrice è stata veramente una gaff, nel senso, secondo me, in buona fede, perché probabilmente magari avrà mantenuto anche un po' di timbrica maschile, adesso questo non lo so, bisognerebbe veramente andare a indagare un po', però nel senso non è quello l'importante, secondo me è stata fatta una gaff. Calcola che io, per esempio, faccio doppio un attore su 9.1.1 Lonestar, che è una serie televisiva che va su Fox, e all'inizio il direttore Marco Baroni mi ha detto guarda c'è questo pompiere che prima era una donna, adesso è un uomo, e così fa parte della crew del 9.1.1, insomma, del pronto intervento in Texas. E io vedevo questo attore, ho detto certo, hanno scelto un attore che non assomiglia per niente a una donna, cioè non ha proprio nessun tipo di caratteristica femminile per fargli fare, diciamo, la donna che ha fatto la transizione in uomo, per fare un personaggio appunto di questo genere. E io quindi all'inizio ho pensato, vabbè, hanno preso un uomo e gli hanno fatto impersonare questo personaggio. Poi sono andato a informarmi e effettivamente questo attore è nato donna, e poi ha fatto una transizione effettivamente ottima, sia vocale che fisica, e quindi, ancora di più, nel senso, non è possibile trattarli diversamente da come sono, nel senso, questo è sicuramente difficile da far accettare a molte persone, però le transizioni sono importanti, e io sono rimasto veramente, come dire, sballordito del risultato, perché a tutti gli effetti, appunto, perché uno può dire sì, vabbè, ma mantiene i lineamenti o la voce, e invece io ho detto questo qui è un uomo, non ci ho proprio avuto nessun dubbio in questo, anzi ho proprio pensato, certo, potevano prendere uno con dei lineamenti, quindi anch'io ho imparato molto, perché sono stato, diciamo, un po' superficiale nel mio ragionamento, come se uno si dovesse portare dietro, diciamo, qualche cosa del, diciamo, del pre-transizione, invece no, quindi, diciamo, ho imparato una, diciamo, una lezione con me stesso, e quindi io penso che siano delle cose molto delicate, e che l'episodio, quello con la Vercox, sia stata una gaffa, semplicemente una gaffa, che non si doveva fare, assolutamente, però è stata una gaffa, quindi secondo me hanno avuto una buona occasione per, come dire, per imparare qualcosa anche loro, ecco. Per ritornare agli attoricani, non lo so, calcola che io all'inizio, inizio della mia carriera stavo in una sala, in attesa, in qualche modo, dell'inizio del turno, però mancava ancora un'ora, e un direttore, Alessandro Bruno, Bruno Alessandro, esce fuori dalla sala e dice, ma tu non è che sei un cane, sai fare il cane? Io, tutti un po' a ridere l'intorno, così, chi è che sa fare il cane? Poi dice, ma tu sai fare il cane? Quindi gli attori cani, le attrici canne, diciamo, sono tutti, diciamo, dispregiativi per, diciamo, appunto, per dire che uno non sa recitare. Quindi io ho detto, io lo so fare il cane, nel senso, io ho pensato proprio per abbagliare, ho pensato magari, che ne so, stava facendo un cartone, bisognava coprire un abbaglio, così, e invece stava facendo un audiolibro, stava facendo Il Mago di Oz, e il cane di Dorothy, Toto, il cagnolino di Dorothy, effettivamente partecipa alla narrazione per tutto l'audiolibro, come se fosse un interlocutore di Dorothy. Quindi io ho abbagliato in quest'audiolibro per all'incirca un'ora e tre quarti, facendo proprio il cane, ma non parlando, cioè, abbagliando proprio, quindi la mia carriera è iniziata un po' facendo il cane. Poi spero di essere andato oltre, però, insomma... Il doppiatore, allora, il doppiatore è doppiatore. Sì. Perché la parola si chiude nel discorso, cioè, perché il doppiatore non è solo dare voce, ma saper recitare, quindi bisogna essere attore. Sì, assolutamente. Ci sono sempre le eccezioni, per carità. Ci sono, come in tutti i campi, ci sono dei talenti che non gli si può dire niente. Hanno un talento e in qualsiasi ambito si trovi, comunque c'è un talento dietro. Quindi ci sono moltissimi bravissimi doppiatori e doppiatrici che non hanno mai calcato le scene, non sono mai andati, diciamo, a fare uno spettacolo. Cioè, ce ne sono vari. Però di base, appunto, c'è uno studio attoriale. Diciamo che se uno vuole diventare un doppiatore deve fare lo studio da attore e da attrice. deve, veramente, è proprio un deve, cioè non dovrebbe, cioè proprio deve, cioè deve proprio studiare tanto, deve stare ore sul palco, deve fare ore di prove, deve... Per me poi è importante perché sul palco, quando si fanno le prove o quando si va in scena, si attua proprio una sensazione di ascolto con i tuoi colleghi, che è fondamentale, anche perché il lavoro in sala di doppiaggio è un lavoro senza pubblico. E adesso, purtroppo, anche senza colleghi. Prima si poteva stare in più di uno a Leggio. Adesso, soprattutto dopo il Covid, è impossibile. Quindi è proprio un lavoro che ti aumenta l'ascolto. Quindi non ti chiudi su te stesso, non sei un ego riferito, non sei uno che pensa solo, diciamo, alla propria parte, ma cerchi di ampliare lo sguardo verso, appunto, una visione più globale anche di quello che stai doppiando. Cosa dice l'altro attore? Cioè, leggiamo che cosa dice l'altro attore? Cioè, adesso invece, con la velocità, magari uno non legge neanche troppo che cosa succede nella scena. Invece bisogna comunque entrare nell'ottica che stai facendo, diciamo, che stai componendo un'orchestra, ok, tra più voci. Quindi, secondo me, il percorso attoriale è fondamentale. Ma soprattutto, anche quando uno, diciamo, si può definire un professionista o comunque si può definire che vive facendo un mestiere, come può essere quello del doppiatore, deve comunque continuare a studiare. Io, per esempio, qualche anno fa, diciamo, a carriera già avviata, con già delle cose importanti fatte, ho deciso di riprendere a studiare insieme ad Alessandro Quarta e a sua moglie Sara De Santis, che, appunto, Alessandro Quarta lo conoscerai, ovviamente, è uno strabiliante attore e doppiatore e anche un meraviglioso insegnante, ha una didattica molto seria, molto buona. Sua moglie Sara De Santis è una bravissima professionista della voce, è una vocal coach preparatissima, anche di canto. E io l'ho ripreso a studiare perché, secondo me, è importante veramente non fermarsi mai. E loro, poi, la loro particolarità è una cosa molto bella, che loro hanno un'accademia che, diciamo, è fatta solo per i professionisti. Cioè, è proprio fatta per le persone che già lavorano, che magari vogliono sbloccare una cosa, vogliono approfondire un certo tipo di vocalità, vogliono proprio continuare a studiare e approfondire, insomma, che secondo me non si finisce mai. Anche poi perché uno si crea dei difetti, quindi poi toglierli è più difficile. Sul palco, sul teatro, ci sei stato mai? Sì, 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 io ho fatto e continuo a fare, a parte questo periodo di Covid, io ho fatto tantissimo teatro di strada, appunto, come ti dicevo. Che vuol dire? Vuol dire che il palco erano le piazze, molto spesso, ma anche altre situazioni, molto spesso in ospedali, in orfanotrofi. Ho fatto anche teatro sociale, in questo senso, teatro di intervento sociale. E anche teatro, diciamo, chiamiamolo classico, in teatri veri, adibiti a spettacoli, diciamo, chiamiamoli classici. Sì, sì, ne ho fatti tantissimi. Stavo per firmare un contratto poco prima dell'avvio della pandemia, appunto per una piccola tournée, diciamo, tra Milano e Roma, poi purtroppo si è interrotto tutto, e quindi pace così, vedremo. L'emozione che vedi la faccia, le persone che ti stanno davanti, con il sorriso, con il pianto, con le lacrime di gioia o di tristezza? Cioè, in base al tuo monoguitu stai recitando, che sensazione ti prova? Allora, questa è una bellissima domanda, perché è proprio, secondo me, fa parte proprio, cioè è metà del mio lavoro. Quindi è proprio una bella domanda, perché io, appunto, come ho già detto, ho iniziato facendo il teatro di strada. Il teatro di strada vuol dire che tu proponi uno spettacolo in strada dove la gente si ferma e magari non rimane, perché magari non è interessata a quello che stai vedendo. Questo mi ha insegnato una cosa, non che io devo dare al pubblico ciò che vuole, perché altrimenti uno dice, va bene, allora se il pubblico deve rimanere, io devo cercare di accontentare il pubblico, che secondo me è una cosa che non va bene, perché uno prepara uno spettacolo, uno prepara, diciamo, un testo che ha un certo tipo di motivazioni dietro e tu sempre quello devi proporre. Quindi quando tu vedi una reazione nel pubblico tu non devi sempre reagire a quella reazione, ma ne devi comunque tenere in conto. Quindi anche lì devi fare una mediazione tra quello che il pubblico prova, sente e desidera e quello che tu gli stai proponendo, perché se tu gli proponi una tragedia, come può essere appunto un Shakespeare, appunto un Amleto, la tragedia di Amleto, oppure di Otello. Cioè tu gli proponi una tragedia, magari loro si fastidiscono, piangono, magari sono anche turbati, però non è che devi trattarli come bambini, appunto come se fosse una babysitter, una balia, un qualcuno che ti accarezza e ti coccola, perché altrimenti tu fallisci nel tuo lavoro. Cioè tu devi comunque proporre quello che stai portando. Se tu hai deciso di portare una tragedia, è sempre una tragedia che gli devi portare, non devi accudirli. Magari vogliono proprio stare lì e piangere, ad esempio. E quindi questa è sicuramente una cosa importantissima nel mio lavoro, che è proprio l'ascolto del pubblico. E a questo punto, se abbiamo detto anche il regista, se ti trovi un Gabriele davanti, come gli apprende, sta recitando bene, però vedi che Gabriele può darti qualcosa in più che in quel momento non riesce a darti. Tu che fai? Cioè che vorrebbe darlo, ma non me lo dà? Ma non riesce a darlo? Sì. Sicuramente dipende molto dalla situazione. Ipotizziamo che siamo in una situazione teatrale, in cui abbiamo tante repliche. Ipotizziamo questa situazione. Quello che dico sempre io da regista è che molto spesso è lo spettacolo che risponde. Cioè c'è qualcosa che ancora non funziona, qualche cosa che bisogna ritrovare, qualcosa che appunto magari ci stai provando, ma appunto non ci riesci. Sicuramente uno ne parla, uno fa delle prove, comunque il percorso di prove serve anche a questo. Però poi a un certo punto dico ok, basta domande. Per adesso ascolta lo spettacolo e ascolta quello che succede. Perché secondo me tante di queste cose a un certo punto se ne vanno da sole. Se proprio c'è qualche cosa che non... E quindi con le repliche, con tante repliche, probabilmente arriva la soluzione. Perché la cosa dell'essere attore è anche questa, è la cosa bella del fare l'attore in teatro, è questo, che tu fai sempre delle repliche e ogni replica è diversa. per quanto tu replichi sempre la stessa cosa, ma ogni replica è diversa. Quindi hai la possibilità di migliorare anche, anche di peggiorare, per carità. Però direi questo, non avere fretta, ancora dobbiamo lavorare su alcune cose, non avere fretta, fatti rispondere dallo spettacolo, cioè dal lavoro. Cioè lavora e sicuramente troviamo la chiave. Ricorda tanto lo spettacolo Rumori fuori scena, quel discorso che hai fatto, che ogni volta si ripeteva le scene, ma in modo drammaticamente diverso. Sì, sì, sempre diverso. Quello è un grandissimo testo, ovviamente, che racconta tanti di questi, diciamo, scenari occulti nel mestiere teatrale. Ovviamente è una commedia. però sì, assolutamente, ogni replica è sempre condita da catastrofi o da situazioni magari dilliache, ma comunque di cui il pubblico non deve mai accorgersi. Nella tua pagina, nel suo sito internet, c'è scritto sta preparando il suo primo film. Sì, è questa, diciamo, è una cosa, allora, facciamo ordine. In questo momento io sto facendo, diciamo, sto aspettando di poter fare la produzione di un cortometraggio di cui ho comprato i diritti l'anno scorso, solo che ovviamente essendo tutto fermo è tutto un po' slittato, ok? Quindi adesso sto, diciamo, sto chiudendo, diciamo, questo cortometraggio. che penso che a settembre si chiuderà. E poi piano piano sto preparando il mio primo film, perché comunque io ho sempre avuto il pallino del cinema, della regia, e il pallino, cioè non è un pallino, ho studiato per farlo, nel senso, sono andato anche, diciamo, a concludere una parte della mia formazione a Los Angeles, alla USC, che è una delle, diciamo, delle università prestigiose di Los Angeles in cui si impara la cinematografia, appunto, dove si impara proprio il filmmaking, l'arte di essere un regista. Sto preparando il mio primo film con molta difficoltà, perché ovviamente diciamo, ho come, ci sono tante, tante variabili che uno deve calcolare, no? E quindi io, per esempio, adesso mi sono dato come esempio, diciamo, come, come si può dire, come stella polare, l'esempio di Christopher Nolan. A me Christopher Nolan piace, non in tutti i film, mi piace molto, però, come regista, completamente diverso da me, quindi, diciamo, non cerco assolutamente di, non mi ispiro assolutamente a lui, però mi ispiro per una cosa che lui ha fatto. Il suo primo film, lui l'ha fatto con 6.000 dollari, tre attori, tendenzialmente amici, e due, tre location di case, diciamo, di amici, in qualche modo. E lo ha fatto in pochi giorni, ha fatto tantissime prove con gli attori, poi ha fatto, lui ha fatto la direzione della fotografia, ha fatto la regia, ha fatto il montaggio, ha fatto tutto un po' da solo, però lui ha scritto talmente tanto bene questo primo film che è riuscito a farlo con, appunto, pochissimi soldi, 6.000 dollari, a proporlo in qualche festival diciamo anche importante e a essere notato per questo lungometraggio. E da lì è nata la sua carriera. Quindi, diciamo, io sto seguendo un po' quelle orme lì. Io l'anno scorso ho fatto, diciamo, ho concluso l'anno di un, diciamo, l'anno di festival di un pilota, di una puntata pilota di una webserie che ho fatto con alcuni colleghi, con Gianfranco Miranda e con Alessandro Budroni e Sara Ferranti e che ha vinto molti premi, quindi capisco il, diciamo, il meccanismo dei festival. Quindi sto preparando il mio primo film proprio con questa logica, cioè cercare di fare un film che sia un buon film per i pochi soldi che posso permettermi di utilizzare per poter attecchire, diciamo, nel mercato dei festival e quindi riuscire a conoscere una realtà di produzione che mi è nascosta in qualche modo che mi è difficile trovare. Sì, intanto ringrazio te e tutti quelli che seguiranno diciamo questa intervista, grazie per la vostra passione che mettete nel nostro lavoro. Noi riusciamo a continuare a fare il nostro lavoro con qualità anche perché ci sono tantissimi fan che pretendono la qualità ed è giusto che la pretendano. Anzi, dico proprio che se sentite o vedete un cattivo doppiaggio scatenatevi, insorgete perché appunto bisogna mantenere alto il nostro livello d'eccellenza. Ringrazio mia moglie Margherita e mio figlio Giulio e mio figlio figlia che arriverà perché comunque mi permettono di fare quello che mi piace nel senso che mi supportano nel farlo. Ringrazio alcuni alcuni miei colleghi definiti la brigata che sono appunto una banda di manigoldi con cui appunto ho il piacere di lavorare e di incontrarmi nelle sale di bravissimi artisti che appunto diciamo con i quali sono cresciuto e poi basta ringrazio in qualche modo tutti tutti quelli che attualmente mi stanno dando molta molta energia nel mio lavoro che sono appunto che sono Giorgia Lepore che sono Laura Romano Ilaria Ratini che sono Gwendalina Ward Daniele De Lisi Sara De Santis come dicevo prima Alessandro Quarta sono tutti i colleghi che mi hanno dimenticato sicuramente qualcuno quindi scusatemi tantissimo che ho dimenticato sono tutti i colleghi che in questo periodo del lavoro mi stanno dando tanta carica e tanta energia anche perché in questo periodo di pandemia è tutto molto più no? e poi c'è un personaggio che sto doppiando adesso di cui però non posso dirvi il nome nella serie che parla così completamente sono la voce e quindi mi saluto in questo modo che è stata una cosa geniale della direttrice Monica Patrizzi che saluto che nel volermi mettere su questo personaggio perché io di solito faccio tutte voci di questo genere e invece è stato è stato un genio a volermi mettere in un personaggio del genere la ringrazierò per sempre RTM in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro questa è la mia panchina vengo qui alla stessa ora ogni giorno e poi e brontoli esatto sembra proprio che ti serva un amico mi piace anche tu mi piace Freddy grazie 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 grazie